Non chiederò al Presidente Nello Musumeci di prorogare la zona rossa ad Adrano, i numeri sul contagio pervenuti sono più tranquilli. A dirlo è il commissario straordinario del Comune di Adrano, Angelo Saieva, in vista della scadenza della zona rossa ad Adrano fissata per domani. Numeri alla mano nel giro di una settimana, l'altalena del contagio ha refertato in città un più sei e dunque con questi dati è ipotizzabile pensare che il governatore siciliano non proroghi più la zona rossa. Domani ne sapremo di più, intanto ad Adrano gli attuali positivi sono 327, 4 in più rispetto ieri, 21 gli ospedalizzati più 4 ricoverati in altra struttura. A Biancavilla diminuiscono i contagi attivi e anche gli ospedalizzati, 322 positivi, 28 di questi ricoverati in ospedale. A Paternò l'aumento dei positivi è stato di 13 unità rispetto ieri e dunque gli attuali contagi sono 421, di cui 18 ospedalizzati. 629 invece i soggetti posti in isolamento fiduciario in attesa del tampone molecolare. 54 i casi attivi a Santa Maria di Licoddia, dove nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 nuovi positivi all'infezione e un solo guarito. A Belpasso sono 241 i contagi in corso, di cui 16 ospedalizzati.